Allora ragazzi, bentornati su Genesis and Twisted Dreams, andiamo a fare l'ultimo livello del DLC, del gufone, il re dei gufi, dobbiamo andare a distruggere, il gufo supremo, andiamo, andiamo, andiamo. Foresta nera, entriamo nella foresta nera. Oh, che è quello? Un'astronave a forma di gufo? Ah, quella era la fabbrica dei gufi che stava in area. Se ricordate lo scorso episodio noi abbiamo distrutto la fabbrica dei gufi, che io non avevo capito che era a forma di gufo, perché non si vedeva solo il particolare dove siamo entrati. Ed è la fabbrica dei gufi a forma di gufo, non lo sapevo sta cosa, e soprattutto vola, è volante la fabbrica, questa cosa non la sapevo. Andiamo a giocare, allora siamo tornati sulla terra, e dobbiamo andare adesso a cercare il re dei gufi, il gufo supremo, dove sarà, dove sarà, andiamo a cercarlo. Oh, che è, che è una lanterna, che è sta roba? Ah, non è andata. Soliello già sembra incasinatissimo, guardate un po'. Allora, cambiamo, perché almeno così le lame vanno in direzione giusta. Che è sto rumore. Allora, qua. Ah, c'erano delle gemme nascose. Dio, 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 come faccio qua, aiuto. Ok, allora, qua ci stanno altre... Altre lame, andiamo. Ah, ho sbagliato il tempismo. Vai! No, no! Ci abbiamo fatta! C'è un passaggio qua, sì, guarda qua. Ah, ecco, devo fare così. Qua, chi c'è? Pughe si trasformano in spine! è un modo al contrario rispetto a come dice la freccia ovviamente oh è questo credito io gori 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 ahia i don't want to do Ok, fino a ora ci siamo, eh! Devo andare là sotto, è qualcosa che c'è! Aspetta però! Quindi qua adesso devo andare a destra! Devo andare sotto? No, c'era una cosa là! Passaggio segreto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto! Fermi tutti, l'ho visto, sta qua sotto! Ah, non ci si arriva da qua, da dove ci si arriva? Da dove si arriva? Ah, da sinistra! L'ho ciocchiato, l'ho ciocchiato, sta volta l'ho beccato! Eccolo, eccolo! Ok, l'abbiamo fatta! Eeeh, guarda quanta roba! Oh! Ma ci sono le punte! Chi l'aveva viste? Aspetta, aspetta! Lo scudo, lo scudo! Ah, le punte me le devo ricordare! Ah! 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 Che botta! Ho preso una botta pazzesca! Questa è la botta pazzesca! Ah! Eeeh, guarda quanta roba! Come ci arrivo? Ah, c'è il passaggio segreto, l'ho visto, ho visto! L'ho visto il passaggio segreto! Eccolo, eccolo! 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 Eh, scappa! 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 Uh! Pesi tutti! Devo andare a destra, eh? Oh 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 E' pieno ai fantasmi qua! No no aiuto! E' pieno! Facci mostra! Andami bene! Scappa scappa! No il fantasma! E' un asotto? Sì? Venite qua! Venite, venite! Oh, due l'ho fritti eh! Vediamo un po' di schiaffeggio anche gli altri! Eccoli, eccoli! Il Kugus Clan! Eh, l'ho fregati, l'ho fregati! No 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 no! Ok, ce l'abbiamo fatta! No! Ho pensato c'era un buco, per fortuna no! 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 Mi sono schiacciato! Mi sono schiacciato la capa! No! Mi sono schiacciato la capa! No! Che fai? E' difficile sto pezzo rica! E' difficile sto pezzo rica! Per quanto tempo? Per quanto tempo? Io vedo una cosa allo stile! Ci si può andare qua! Qua ci vedo un punto dove arrampicare? Sembrava Oh Tiè, guarda che cuore di diamanti Allora, qua abbiamo fatto, dovevo riscendere Aì, 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 fermo, fermo, mamma mia, infernale questo pezzo, regà Allora, c'è sì, no, 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 no Oh, fermi tutti C'è un passaggio segreto qua, ma non è questo il modo per arrivarci Perché c'è un muro? Se io vado a sbazzo qua Cioè, da dietro si arrivava qua? Forse c'è un'altra strada, oppure è un passaggio segreto che già mi sono giocato e che avrei dovuto prendere prima, non lo so Allora, già ce l'ho lo scudo, quindi niente Oh, bella Ok, questo è un'altra strada di banca Oh, bella Che non mi ha fatto giù qua? Tiè, guarda quel demone se se ne va Oh, fermo Ah, devo stare al momento giusto, ma è difficilissimo Tipo, ora? Ma poi muori Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Qua c'è un passaggio, sicuro? No, niente cosa di segreto Allora, abbiamo finito livello, regà Ok, abbiamo finito, regà, grande Ok, sono morto la bellezza di 11 volte E ho preso 733 gemme su 851 Quindi ne ho mancate più di 100, regà È una cosa brutta E poi, e poi, però 4 stelle me le so beccate 4 stelle me le so beccate Andiamo avanti Allora, al prossimo episodio Andremo a sconfiggere finalmente No C'è un altro livello ancora Attenzione, c'è un altro livello che sta alla baglia di onde marea Quindi ancora non è finita, regà Ancora ce ne abbiamo da giocare Ok Per questa volta è tutto Noi ci vediamo al prossimo episodio di Genesis Twisted Dreams Manca veramente poco alla fine Questo sarà un livello veramente enorme Perché ci sono 1206 gemme da raccogliere E poi c'è boss finale, ragazzi Quindi siamo proprio agli sgoccioli Anche di questo DLC Di questo livello Di questo mondo extra Che non c'era nella prima edizione del 2012 Ricordo Ma l'hanno aggiunto Nella versione Quella del 2014 O 2015 Non mi ricordo Per PlayStation 4 PC e Nintendo Switch Per questa volta è tutto Ciao ragazzi Alla prossima